Il sogno era quello di creare una struttura per tutti quei conigli che non vuole nessuno, cioè quelli troppo grossi, quelli bianchi con gli occhi rossi che tanti hanno paura. Si chiama Bunny Love ed è una fattoria del tutto speciale. Qui infatti vengono recuperati conigli e piccoli roditori e abbandonati. Si trova a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Laura ha deciso di aprire questa fattoria e di cambiare la sua vita a seguito di un incidente. Tutto così è nato dal salvataggio dei primi due conigli. E da lì mi sono resa conto veramente, anche per altre problematiche di salute che ho, che la vita è una e quindi quando c'hai un sogno lo devi fare. Qui Laura ha già accolto oltre 60 roditori tra conigli, cencillà, porcellini d'India e cricetti. Quando entri in questo mondo in automatico ti risucchia. Ti risucchia le emergenze di tanti conigli cuccioli che vengono comprati in negozi, in cappannoni grossi e poi riportati indietro perché pensano che non c'hanno bisogno di cure, che non fanno bisogno. Allora arrivo e inizia l'inserimento separando ovviamente maschi e femmine, quindi effettuati controlli veterinari e sterilizzati. Adesso molti di loro cercano una famiglia. Ha anche un carattere particolare il coniglio perché all'inizio è molto molto diffidente, ma se tu lo conquisti è proprio un amore fedele. Laura per portare avanti il suo sogno ha bisogno dell'aiuto di tutti. C'è un IBAN, c'è il Paypal, insomma c'è un sacco di cose collegate alla fattoria. Ma aiuto anche se chi viene qui che magari, che ne so, mi porta un po' di lenzuoli di coperto oppure va a comprare un sacco di pellet, quello per la stufa. C'è tanti modi di aiutare.